La prova, Maupassant. I Bondel erano una buona coppia, anche se un po' troppo polemici. Bisticciavano spesso per cose da nulla e poi si riconciliavano. Ex commerciante ritiratosi dagli affari dopo aver accumulato di che vivere a modo suo, Bondel aveva preso in affitto un villino a Saint-Germain e si era sistemato lì con la moglie. Era un uomo calmo, le cui idee, precidamente sedute, non s'alzavano mai volentieri. Aveva una certa istruzione, leggeva giornali seri, pur apprezzando qualche battuta grassoccia. Ragionevole, con molto senso pratico. La più diffusa qualità in Francia del borghese industrioso non è che pensasse molto, ma aveva idee sicure e non prendeva decisioni se non dopo una serie di considerazioni che il suo istinto gli rivelava infallibili. Era un tipo di media statura, dai capelli sale e pepe, dall'aria distinta. La moglie, donna piena di serie qualità, aveva anche lei qualche difetto. Un carattere irascibile, dai modi tanto franchi da sfiorare la maleducazione, invincibilmente testarda e capace di serbare rancori implacabili. Un tempo carina, poi, sarà fatta grassa e troppo florida, anche se nel quartiere di Saint-Germain passava ancora per una bella donna, immagine della salute, ma con aria troppo arcigna. I loro dissensi avevano inizio quasi sempre a colazione, durante qualche discussione senza importanza, poi rimanevano in collera fino a sera e spesso fino al giorno dopo. Quella vita così semplice e ritirata faceva apparire qualsiasi leggera preoccupazione più grave di quanto fosse, e ogni argomento di conversazione diventava per loro due causa di litigi. Un tempo questo non accadeva, quando erano occupati da affari che associavano i loro pensieri, stringevano insieme i loro cuori, chiudendoli e trattenendoli nella rete dell'interesse comune. Ma a Saint-Germain vedevano meno gente, avevano dovuto rifarsi un giro di conoscenze, crearsi in un ambiente estraneo una nuova esistenza, del tutto vuota di occupazioni. Allora la monotonia di quelle ore, sempre uguali, li aveva un po' inaspriti. Tutti e due non vedevano ancora sorgere tra loro quella serena felicità che avevano atteso, che avevano superato insieme alla giatezza. Una mattina di giugno s'erano appena messi a tavola. Quando Blondel domandò «Conosci quei due che abitano nella casetta rossa, in fondo a Rue de Berceau?», la signora Blondel sarebbe forse alzata di cattivo umore perché rispose «Sì e no, comunque a conoscerli proprio non ci tengo». E perché sembrano tanto per bene? Perché stamattina ho incontrato il marito su quel largo della passeggiata e abbiamo fatto un giretto assieme. Poi, resosi conto che aleggiava nell'aria un temporale, Blondel rispose «È stato lui ad avvicinarsi e a parlarmi per primo». La moglie lo sogguardava con aria scontenta. «Fece, avresti fatto meglio a evitarlo. Ma perché? Perché sul conto di quei due si fanno tante di quelle chiacchiere. Quali chiacchiere? Oh, santi Dio, chiacchiere! Come se ne fanno tante!» Blondel ebbe il torto di rispondere un po' vivacemente. «Mia cara, sai bene che detesto le chiacchiere. Basta che se ne facciano su qualcuno, che questi mi diventi subito simpatico. Quanto a quelle persone, io le trovo molto a posto». Lei mi chiese allora con rabbia «Anche la moglie, per caso?» «Dio mio, sì, anche la moglie, benché l'abbia appena intravista». E la discussione continuò, inasprendosi lentamente e per penuria di altri motivi, accanita sullo stesso argomento. La signora Blondel si ostinava a non rivelare quale chiacchiere circolassero su quei vicini, lasciando capire senza precisare, che si trattava di brutte cose. Blondel alzava le spalle, ridacchiava maligno, esasperava sua moglie. Questa finì per gridare. «E va bene, quel signore è becco, ecco tutto!» Il marito, senza scomporsi, rispose. «Non capisco proprio come ciò possa intaccare l'onorabilità di un uomo». Lei sembra stupefatta. «Come? Tu non capisci! Tu trovi che... questa è grossa, veramente, è proprio grossa! Tu non trovi che... ma è uno scandalo pubblico, quello ormai disonorato a forza di essere cornuto!» Lui rispose. «Oh no, allora un uomo dovrebbe essere disonorato perché lo si inganna, perché lo si tradisce, perché gli si ruba. O no, sarà disonorata la moglie, ma lui no!» Allora lei divenne furiosa. «Vale per lui come per lei. Sono disonorati. È uno schifo pubblico!» Blondel calmissimo domandò. «Anzitutto, è vero? Chi può affermare una cosa simile fin tanto che non ci siano le prove?» La signora Blondel si agitava sulla sedia. «Come? Chi può affermarlo? Ma tutti, tutti! Una cosa simile salta gli occhi da sé! Tutti lo sanno, tutti lo dicono! Non vi sono dubbi! È una cosa nota, come una festa nazionale!» Lui sogghignava. Si è creduto anche per molto tempo che il sole girava intorno alla terra e mille altre cose, non meno notorie, e che invece erano false. «Quell'uomo adora la moglie, ne parla con tenerezza, con venerazione. No, non è possibile!» Lei balbettò furiosa pestando i piedi. «E in più lui lo sa, quell'imbecille, quel cretino senza dignità!» Blondel non si faceva prendere dall'ira, ragionava. «Scusa, ma, quell'uomo non è stupido. Mi ha fatto l'impressione, invece, di essere molto intelligente e molto acuto. Non mi vorrai far credere che un uomo che ha un certo spirito non riesca ad accorgersi che in casa sua accade una cosa simile, quando poi i vicini, che ne stanno fuori, fuori, dico dalla sua casa, non ignorano alcun dettaglio dell'adulterio, perché sicuramente essi non ne ignorano alcuno». La signora Blondel fu presa da un accesso di gioia rabbiosa che dè adesso i nervi al marito. «Tutti uguali, tutti, tutti! E con in più questo, che non ce n'è uno solo al mondo che non se ne accorga, fino a che non gli ci fanno sbattere il naso sopra!» La discussione prese una piega differente. Lei partì lancia in resta sulla cecità dei mariti traditi, su cui lui aveva i suoi dubbi, e che lei affermava con un'aria di disprezzo, così manifestamente carica di riferimenti personali, che alla fine lui si arrabbiò. Allora nacque un alterco pieno di collerico furore, in cui lei prese il partito delle donne, e lui la difesa degli uomini. A un certo punto lui ebbe la dabbenaggine di dichiarare, «Ebbene, io te lo giuro, se fossi stato ingannato me ne sarai accorto, e anche subito, e ti avrei fatto passare la voglia, in modo tale che avresti avuto bisogno di parecchi medici per ritirarti su!» Lei salto su per l'ira e gli ordinò in faccia. «Tu, tu, ma tu sei scemo, come gli altri, come gli altri, capisci?» Lui riaffermò. «Ti assicuro, proprio no?» Allora lei scoppiò in una risata così impertinente che lui sentì il cuore battergli in fretta, e un brivido per corrergli la pelle. Per la terza volta disse. «Io, io l'avrei visto!» Sempre ridendo nello stesso modo, lei sceltò e disse «Basta, è troppo grossa!» e se ne andò sbattendo la porta. Blondel rimase solo, molto turbato. Quel riso insolente e provocatore lo aveva colpito come uno di quei pungiglioni di mosca velenosa dal cui primo tocco non si sente nulla, ma che presto provocano un bruciore che in breve diviene intollerabile. Uscì di casa. Camminò sempre assalito da inquieti pensieri. La solitudine della sua nuova vita lo faceva incline a considerare amaramente la cosa, a veder nero. A un tratto si trovò di fronte il vicino incontrato al mattino. Si strinsero la mano e si misero a chiacchierare. Dopo aver toccato svariati argomenti, il discorso scivolò sulle loro mogli. Tutti e due sembravano aver qualcosa da confidare, qualcosa di inesprimibile, di vago, di penoso, sulla natura stessa di questo strano essere compagno della loro vita, la moglie. Il vicino diceva «Si direbbe davvero che abbiano talvolta una specie di ostilità particolare contro il marito, per il solo fatto che lui è il loro marito. Io, per esempio, amo mia moglie. L'amo, la stimo e la rispetto. Ebbene, lei qualche volta dimostra più confidenza nei nostri amici che in me». Blondel pensò subito «Ci siamo. Mia moglie aveva ragione». Accomiatatosi da quell'uomo si rimise a pensare. Sentiva nell'anima un miscuglio confuso di pensieri contradditori, una specie di doloroso ribollimento, e aveva sempre nelle orecchie quel riso impertinente, quel riso esasperato che pareva dire «Ma anche tu segui la regola degli altri, imbecille». Certo era stata una bravata, una di quelle imprudenti bravate di donne che osano tutto, che rischiano tutto, per ferire, per umiliare l'uomo contro cui sono irritate. Quel pover'uomo, dunque, doveva essere come tanti altri, anche lui un marito ingannato. Aveva detto tristemente «Lai dimostra più confidenza nei nostri amici che in me». Ecco dunque come un marito. Questo cieco sentimentale, che la legge chiama «un marito», formulava le sue osservazioni sulle attenzioni personali di sua moglie verso un altro uomo. Tutto qui. Lui non aveva visto nulla di più. Era come gli altri, come gli altri. Poi lui, Blondel, aveva riso con lo stesso riso singolare di sua moglie. «Anche tu, anche tu. Che pazza e imprudenti sono queste creature che possono far entrare simili sospetti nel cuore per il solo gusto di sfidare il compagno». E andava indietro nel tempo alla loro vita in comune, cercando tra le loro vecchie relazioni se lei avesse mai sembrato dimostrare a qualcuno più confidenza e abbandono che a lui. Non aveva mai sospettato di nessuno, tanto era tranquillo, sicuro di lei, fiducioso. Ma sì, lei aveva avuto un amico, un amico intimo, che per quasi un anno venne a cena da loro tre volte la settimana. Tancré, quel buon Tancré, quell'ottimo Tancré che lui, Blondel, aveva amato come un fratello e che aveva continuato a vedere di nascosto dopo che sua moglie, chissà perché, si era urtata con quel simpatico ragazzo. Si fermò per riflettere, rivedendo il passato con occhi inquieti. Poi gli nacque dentro come un senso di rivolta contro se stesso, contro questa vergognosa insinuazione dell'io sospettoso, dell'io geloso, dell'io malevolo, che tutti noi ci portiamo dentro. Si incolpò, si accusò, si vituperò, ricordandosi le visite e il comportamento di quell'amico che sua moglie stimava tanto e che poi mise alla porta senza un serio motivo. Ma subito gli ritornarono in mente altri ricordi di rotture uguali a quella, dovute al carattere vendicativo della signora Blondel, che non perdonava mai neppure la più piccola offesa. Rise allora di cuore, di se stesso e di quella nascente angoscia che lo aveva stretto. E ricordandosi dell'espressione di odio che sua moglie aveva quando lui le diceva tornando a casa la sera, ho incontrato quel simpatico Tancré, mi ha chiesto di te, si rassicurava completamente. Lei rispondeva sempre, quando incontri quel signore, digli pure che lo dispenso dall'interessarsi di me. E con che irritazione, con che aria feroce pronunciava quelle parole. Come si sentiva che lei non perdonava, che non avrebbe mai perdonato. E lui aveva potuto sospettare. Anche un secondo. Dio che sciocchezza. Ma perché se l'era presa tanto? Lei non aveva mai detto il motivo preciso di quell'improvvisa interruzione dei loro rapporti e la ragione del suo sentimento. Mi salvavano ancora. E quanto? Forse? Ma no, no. E Blondel si disse che pensando a tali cose si avviliva da solo. Certo si avviliva, ma non poteva vietarsi di pensarci. E si domandò con terrore se quell'idea che gli si era insinuata dentro non minacciasse di restarci. Se non avesse lì nel cuore, la larva di un lungo tormento. Conosceva se stesso. Era un uomo che avrebbe ruminato il suo dubbio, come ruminava un tempo le sue operazioni commerciali. Per giorni e notti, soppesando i pro e i contro, senza fine. E già era più agitato. Camminava più veloce e perdeva la calma. Nulla si può contro un'idea. È inafferrabile. Non la puoi cacciare via. Non la puoi sopprimere. E all'improvviso gli nacque in testa un progetto ardito, tanto ardito che dapprima ebbe i suoi dubbi sulla sua realizzazione. Tutte le volte che incontrava Tancré, questi gli domandavano notizie della signora Blondel. E Blondel rispondeva, è sempre un po' in collera, niente altro. Dio mio, anche lui era stato marito, ma forse avrebbe dunque preso il treno per Parigi. Sarebbe andato a casa di Tancré, ma avrebbe la sera stessa condotto con lui assicurandolo che il misterioso rancore della moglie era passato. Sì, ma che faccia avrebbe fatto lei? Che scenata, che furia, che scandalo! Tanto peggio, si sarebbe vendicato di quella risata e, vedendogli faccia a faccia all'improvviso, senza che lei ne fosse avvisata, sarebbe stato pronto a cogliere sui loro volti l'emozione della verità. Corse subito in stazione, prese il biglietto, salì in vettura e, quando si sentì portar via dal treno che scendeva il pendio del PEC, ebbe un po' di paura, una specie di vertigine di fronte a quanto stava rischiando. Per non piegarsi, ritirarsi, tornare da solo, si sforzò di non pensarci più, di distrarsi in altri pensieri, di fare con cieca risolutezza quanto aveva stabilito, e si mise a canterellare motivi di operetta e di caffè concerto, fino a Parigi, cercando a distordirsi la mente. Non appena si trovò davanti ai marciapiedi che l'avrebbero condotto alla strada dove abitava Tancré, più di una volta fu preso dal desiderio di fermarsi. Girellò per le strade, soffermandosi davanti a qualche negozio, notando il prezzo di certi oggetti, interessandosi ad articoli di novità. Ho preso anche dal desiderio di bere un bicchiere di birra, cosa che era contraria alle sue abitudini, e, nell'avvicinarsi alla casa dell'amico, desiderò di cuore di non trovarcelo. Ma Tancré, solo in casa, stava leggendo. Si alzò meravigliato ed esclamò, «Ah, Blondel, che piacere!» E Blondel, con un certo imbarazzo, «Sì, caro, dovevo venire a Parigi per una commissione e sono salito a salutarti. Sei stato proprio gentile. Avevi perso l'abitudine di venire a casa mia. Che cosa vuoi? Qualche volta diamo ascolto agli altri e, siccome mia moglie pareva che ce l'avesse con te?» «Pareva, per dinci. Mi ha messo alla porta. Ma perché? Io non ho mai saputo nulla. Niente, una sciocchezza, una discussione in cui non la pensavo come lei. Ma su quale argomento questa discussione? Su una signora che forse conosci di nome, la signora Butin. Davvero? Beh, credo che mia moglie non ti salvi più rancore. Stamattina mi ha parlato di te come di un vero amico.» Tancretta salì e sembrò così stupito che per qualche attimo non trovò niente da dire. Finalmente continuò. «Ti ha parlato di me? Come di un vero amico? Ma sì, ne sei sicuro? Non me lo sono mica sognato. E poi, dato che venivo a Parigi, ho pensato che ti avrebbe fatto piacere se fossi venuto a dirtelo. Ma certo, certo!» Blondel finse di agitare. Poi, dopo una piccola pausa, disse. «Era venuta persino un'idea originale. Quale idea? Portarti a pranzo con me, a casa mia.» A questa proposta, Tancret, prudente per natura, si mostrò preoccupato. «Ma ti pare il caso? È possibile? Non ci metteremo in qualche situazione piacevole.» «Ma no, no.» «Perché, lo sai, la signora Blondel serve a rancore.» «Lo so, ma ti assicuro che non ce l'ha più con te. Anzi, sono persuaso che le farà tanto piacere rivederti così all'improvviso.» «Davvero? Davvero?» «E allora andiamo, carissimo. Da parte mia sono felice. Sai, non chiedevo di meglio che chiarire quel malinteso.» A braccetto si avviarono verso la stazione Saint Lazar. Non parlarono lungo il tragitto. Tutte e due parevano persi in fantasticherie. Nello scompartimento, seduti l'uno di rimpetto all'altro, si guardavano in silenzio, accorgendosi a vicenda di essere pallidi. I scesi dal treno si ripresero sotto braccio, come per coalizzarsi contro un pericolo comune. Si fermarono dopo qualche minuto. Avevano l'affanno tutti e due, ed erano davanti all'abitazione dei Blondel. Fatto passare l'amico, Blondel lo seguì in salotto, e dopo aver chiamato la serva, domandò «È a casa, la signora?» «Sì, signore.» «Pregatela di scendere subito.» «Sì, signore.» Aspettarono, sprofondati in poltrona, presi dallo stesso desiderio di fuggire appena possibile, prima che apparisse l'alta figura temuta. Un passo ben noto, un passo sicuro, discese la scala. Una mano sfiorò la porta, e gli occhi dei due videro girare la maniglia di ottone. Poi la porta si spalancò, e nel suo vano comparve la signora Blondel, che prima d'entrare si fermò per vedere. Guardò, arrossì. Ebbe un fremito. Fece mezzo passo indietro, poi rimase immobile. Il sangue l'era salito alla testa, e dovette poggiare le mani agli stipiti. Tancrè, ancor più pallido, sul punto di svenire, sarà alzato, lasciando cadere il cappello, che rotolò sul pavimento. Balbettava «Mio Dio, signora! Sono io! Ho creduto! Osato!» Mi dispiaceva talmente che, e visto che lei non rispondeva, aggiunse «Mi perdonate finalmente!» Allora, trascinata da un impulso improvviso, lei gli andò incontro con le mani tese, e quando Tancrè le ebbe prese e trattenute tra le sue, con una vocina commossa, tremante ed amoribonda, che il marito non aveva mai udito, sussurrò «Ah, caro amico mio, quanto mi fa piacere!» E Blondel, che li osservava, si sentì gelare dalla testa ai piedi, come se lo avessero immerso in un bagno freddo.